Oggi parliamo di un'immagine, che è questa, per rispondere alla domanda di Roberta, subito dopo la sigla. Ciao, sono Mauro Barbacci e sono un fotografo naturalista ed outdoor. Oggi rispondiamo alla prima domanda che mi è stata fatta nel mio account Instagram, trovi qui sotto in descrizione il link ad Instagram e soprattutto trovi anche il link al mio podcast, sia su Anchor che Spotify, dove ho già risposto alla domanda di Roberta e ho parlato di questa foto. Allora, Roberta, che è la compagna del mio grandissimo amico, mi ha fatto una domanda molto bella, ossia Qual è la foto che mi suscita più ricordi, più emozioni e più... ce l'ho sempre in mente, insomma, la più importante per me, ecco. Non ce n'è una sola, ma ce ne sono veramente tante, perché tutte le foto che faccio, per me, portano dietro un grosso ricordo. Soprattutto quelle che faccio per me, eh, non quelle che faccio per lavoro. A volte lì faccio foto che non portano niente. Però, a parte quello, mi sono perso, ma non c'è problema. Oggi parliamo di una foto che non ho fatto io, ma è una foto che ho incorniciata qui e tengo con me nel mio studio da ben 34 anni. Non ce n'è che io ce lo studio da 34 anni, eh, però la tengo con me da 34 anni. Questa foto è molto importante, perché? Perché ritrae Rio Freddo, che è un luogo dove io vado sempre a scattare foto, te le metto qui, che girano qui, così adesso, grazie ai potenti mezzi della tecnologia. E' un luogo dove io vado da bambino. E quando ho visto questa foto, io chiesi subito a mio padre di potermela regalare. Era stata una spesa abbastanza importante per quei tempi, perché erano dieci vecchie mila lire. E capite che 34 anni fa diecimila lire erano soldi. E io questa foto l'ho tenuta sempre con me. E è quella che ha dato il via a tutto quanto. Ha dato il via significa che dopo io ho cercato di riprodurre questa foto, che a suo tempo era magica, grazie alle lunghe esposizioni. E io avevo questa macchina qui, che ce l'ho qui sempre con me. Infatti non è in modalità scatto, ma è in modalità museo. E' la SRT-101 della Minolta, che era la macchina fotografica di mio padre. E adesso la vedete con montato anche il Mez, il CL45, no, il CL45 CT1. E per le new entry della fotografia questo è uno scatto remoto, che funziona così. e andava a scattare premendo sul tasto di scatto. Su un'altra macchina, o anche su un'altra macchina, si innestava sul laterale. Ah, ecco, su questa che ho qua proprio. Però non voglio divagare troppo. Eccola. Questa è la Minolta X700, che tuttora utilizzo per scattare. lo scatto remoto, quello lì, si innestava sul lato e via. In pratica utilizzavo quella SRT-101 con il 28 mm e il 50 mm. E' stata una pazzia per me dedicarmi a questa cosa, perché a quel tempo non era come ora che c'era YouTube e tanti videocorsi, tutorial, corsi di fotografia o che altro. Il mio padre mi ha semplicemente detto fai sì che l'astina dell'esposimetro, dicendomi cos'era quella stina, stia sullo zero. E io facevo così. Tant'è vero che il giorno che sono riuscito anch'io a fare una foto decente, non bella, era stata una situazione mista tra fortuna e cos'altro. Sì, più che altro fortuna, di sicuro non mia tecnica, non è avvenuta per la mia tecnica, più che altro per fortuna. Perché però? Perché in pratica, essendo a fotografare in una gola, in un ambiente stretto, ero lì in una giornata con poca luce. Quindi per tenere l'astina, ecco, non è stata bravura, sia chiaro, più fortuna che bravura, io per tenere l'astina dell'esposimetro sullo zero avevo dovuto allungare i tempi di scatto. Gli sono, ne parliamo, c'era il rullino da 100 asa dentro delle diapositive, e quindi in neghe. E era venuta questa immagine con i tempi lunghi dell'acqua in movimento e io ero veramente eccitato, non in quel momento perché non sapevo cosa avevo fatto, ma dopo, quando tornò mio padre con le diapositive sviluppate, e trovai la foto che cercavo. Sulla base di questo ricordo ancora io fondamentalmente scatto molto così, ossia non vado a fotografare quello che trovo, ma cerco quello che voglio fotografare. Questo è molto importante. e questo ti permette soprattutto di far sì che ogni fotografia abbia un'esperienza dietro. Logico, se trovo qualcosa di interessante lo fotografo, però spesso parto per fotografare quello che voglio io, quello che cerco, che voglio fotografare. ti permette di salire di un gradino se vuoi affrontare la fotografia naturalistica, anche perché ti permette di studiare prima quello che andrai a fotografare. Esperienze di vita in pratica. Non c'è solo questa foto importante per me, anzi, se vai a vedere questo video qui sopra, che ti linko qui sopra, ti anticipo alcune fotografie di un viaggio a Cuba, che è stato un viaggio per me molto importante, delle quali ti parlerò in un altro video. Però adesso voglio un attimino andare avanti su questa situazione. trovi quindi il video dove vedi in fondo, alla fine del video, ci sono le foto e all'inizio vedi come ho prodotto quelle immagini. Questa foto e cercare questa tecnica mi ha portato negli anni a fotografare sempre in maniera consapevole e non di fare la io la definisco un po' una caccia alle mode fotografiche. Ci sono particolari tipi di post-produzione, scatti, multi, tutto quanto, tutto bellissimo, sia chiaro, non sto criticando chi fa queste cose, sia chiaro, ognuno fa ciò che vuole, anche perché ci vuole tempo ed edizione per produrre quegli scatti e anche tante competenze. Però a me piace portare a casa lo scatto singolo, non lo scatto già pronto, quando sento lo scatto pronto, finito, sento tanta fuffa, perché uno porta a casa lo scatto che vuole, però comunque chi dice che la post-produzione non serve forse è meglio che ragioni su quello che ha detto e qui andiamo su dati oggettivi, non soggettivi, perché comunque una macchina fotografica produce un file. e quel file per essere prodotto al meglio bisogna, ma non voglio andare a parlare di tecnica fotografica, ci sono altri luoghi dove parlare di tecnica fotografica, però io voglio portare a casa lo scatto che voglio io, voglio portare a casa, quindi non lo scatto che vuole, che osserva, anzi io voglio far sì che con lo scatto che produco riesco a trasmettere le emozioni come provo io in quel momento. adesso ho iniziato anche con il mio podcast ti ripeto trovi il link qui sotto dove una puntata delle due settimanali viene registrata interamente mentre scatto, l'ultima puntata l'ho registrata mentre scattavo fotografia notturna e tanto per farti capire le emozioni che provavo in quel momento ho registrato più di 30 minuti di episodio del podcast senza accorgermene ero lì che parlavo e dicevo quello che vedevo e praticamente mi ha fregato l'emozione mi ha giocato e è venuta una puntata lunghissima non voglio che anche questa puntata diventi lunghissima quindi cara Roby ci sono tante foto che porto con me nei miei ricordi e che loro portano miei grandi ricordi con loro questa non l'ho fatta io te la faccio rivedere questa non è opera mia però è molto ma molto importante per me questa qui farò altri video dove ti farò vedere altre foto sia a te che agli altri molto ma molto importanti per me adesso qui è iniziato un bellissimo temporale e quasi quasi vado a vedere se riesco a fare qualche scatto ti invito ad iscriverti al canale a mettere like se il video ti è piaciuto e a mettere la campanellina drin 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 così vieni notificato quando carico un video ma soprattutto ti invito a seguirmi perché ci saranno altri bellissimi video ciao e buona giornata grazie per essere stato con me e grazie Roberta per la domanda a breve esce il video dove rispondo ad Alessio che mi ha fatto una domanda su una foto specifica e quindi ci avrete foto e risposta alla domanda bene ciao